Io ritengo che questo Paese, per poi arrivare alla Sicilia, ma il Paese ha sempre avuto uno zoccolo duro del 15% di aria moderata. Io sono dell'idea che, così come abbiamo già dimostrato facendo l'intergruppo tra Udc e Ncd, l'abbiamo dimostrato nelle ultime elezioni europee, prendendo quasi l'8,5%, possiamo sicuramente essere determinanti per fare eleggere il Presidente della Regione e non perché qualcuno pensi che siamo visti come quei cespugli non utili a nessuno. Sicuramente potremmo anche vantare di avere un nostro Presidente della Regione. Potrebbe anche essere Gian Piero D'Alia come candidato? Ma guardi, non vorrei in questo momento fare del male all'amico Gian Piero D'Alia, per ciò che mi concerne devo dirle che è l'unico soggetto che può rappresentare la Sicilia, ma non vorrei che venisse strumentalizzata la mia battuta. Io sono dell'idea che Gian Piero D'Alia può essere tra quelle poche persone che può certamente rappresentare la Sicilia dignitosamente.